Il progetto del Molo Sandeligio è quello di raddoppiare quello che attualmente è la sua capacità. Attualmente abbiamo circa 200 posti barca, è previsto un raddoppio fino a circa 400 posti barca con una serie di strutture, di infrastrutture che ci serviranno per poter dare ormeggio anche a grosse imbarcazioni. I famosi mega yacht che ogni anno arrivano al Molo Sandeligio e se fosse possibile ci stiamo lavorando anche a piccolo naviglio di porto, quindi crocieristico. Questo permetterebbe non solo alla nostra struttura ma all'intera città, quindi alla città vecchia, al borgo antico come io lo definisco, di avere un incremento di persone, di presenze, quindi di turismo, anche turismo d'oltreoceano.